Di che cosa ho bisogno? Per comprendere meglio le mie esperienze, di che cosa ho bisogno? Commento. Prima hai bisogno della mente, che a sua volta ha bisogna di larghezza, di profondità, per avvicinarti alla coscienza. Poi hai bisogno di sorvolare la mente per cercare l'eterno presente. Non hai più bisogno di concetti, non segui più le regole della mente, ma la goccia divina che è in te.